Io sono venuta qui in questo giro per conoscere l'ANXA Puglia e tutte le sue associate e ci piacerebbe proprio usare questi momenti per stringere questa rete che finora è stata un po' a maglie larghe e non ha fatto comunicare le istituzioni che servono per la vita delle persone con la vita. Da dove bisogna partire? Da questa rete per unire Welfare, la scuola e la sanità in un dialogo costante perché ai nostri figli serve Welfare, la scuola e la sanità insieme. C'è un po' di confusione quindi forse? Purtroppo ognuno ancora lavora a compartimenti stani e questo è un grande danno e come dire spendiamo inutilmente soldi che potrebbero essere sfruttati meglio per migliorare la vita dei nostri figli. Il ruolo della provincia quindi è fondamentale? Secondo me la provincia può essere il collante di queste istituzioni insieme all'Associazione dei Genitori.